Come promesso, questa volta proseguiamo il discorso sulla sanità. È un discorso molto difficile, abbiamo parlato degli ospedali, io vorrei affrontare quello che è il problema dei pronti soccorsi. La gente si lamenta che va al pronto soccorso, verde, rosso o giallo che sia, non lo so che devono fare code di 4 o 5 ore, eccetera. Secondo il mio parere, uno dei motivi per cui i pronti soccorsi sono alle volte intasati è perché non c'è una selezione alla base. La medicina di base, i medici di base, non fanno la selezione che dovrebbero fare. E non lavorando il sabato e la domenica, oppure anche addirittura quando ci sono ponti dal venerdì al martedì, c'è il servizio di guardia medica, che sono medici indiscutibilmente bravi, ma che non hanno una sufficiente esperienza sul territorio. E quindi quando si trovano di fronte a dei problemi che potrebbero affrontare o risolvere se avessero una maggior preparazione o esperienza, meglio, alla base, probabilmente non li manderebbero in pronto soccorso, ma risolverebbero il problema loro. Quando ho incominciato a lavorare io nel 1950, ad Arco c'era il dottor Colini che serviva tutta la parte dell'Oltresarche, il dottor Chesani che serviva tutta la parte di Varignano Vigne e all'ospedale c'era il chirurgo dottor Miori con la sua assistente, la dottoressa, io la chiamavo così, Suor Ignazia, che era la sua assistente ai ferri. Allora questi medici facevano sei anni prima di andare sul territorio, facevano sei anni di esperienza in ospedale, se no sul territorio non si andava. E questo era molto importante perché era gente che arrivava sul territorio e risolveva tutta la ginecologia, era fatta da loro. E molte volte anche l'ortopedia, non parliamo dell'ortozonsia, erano cose fatte magari in maniera meno perfetta, ma se un bambino cadeva nei giardini e si faceva un taglietto sotto il mento, non finiva in pronto soccorso, ma i punti glieli dava il dottor Colini o il dottor Cosani. Perché se per caso li avessero mandati in ospedale, il dottor Miori e il Gavaria Cantà, quattro madonna, e il Gavaria dei signori cari, starabacchi, ve la fevo e altri, megami in ospedale, no. Allora è colpa dei medici di base, hanno caricato tutta la medicina di base di un'infinità di scartoffi e cose burocratiche e soprattutto non vengono selezionati, non li fanno fare un tirocinio ospedaliero. Secondo il mio parere, questa è la causa principale di quella che è il sopraccarico del lavoro dei pronto soccorsi. Perché se arriva in pronto soccorso un incidente stradale, ci sono delle cose gravi e c'è uno che deve dare due punti al bambino, sotto che evidentemente tutto il pronto soccorso è impegnato nell'incidente grave. Non può andare a dare due punti al bambino, no. Questo è pacifico, quindi questi punti dovrebbero essere dati. Ma la cosa che assolutamente non funziona è perché questi politici che si riempiono la bocca che bisogna tutelare il popolo, che il popolo qui, che il popolo là, poi lasciano per troppi giorni la popolazione in mano alle guardie mediche. Con tutto il rispetto che io posso avere per le guardie mediche, però le guardie mediche non hanno un'esperienza e una preparazione sufficiente per stare sul territorio e non caricare i pronto soccorsi di troppo lavoro. Altro non c'è da dire. Io direi che questo è il punto principale. Abbiamo parlato degli ospedali l'ultima volta, è vero. Gli ospedali sarà una selezione naturale. Un mio amico è tornato da Tel Aviv l'altro giorno, ha avuto un incidente con la moglie ed è stato ricoverato in un ospedale di Tel Aviv. E la cosa che lo ha impressionato dell'ospedale di Tel Aviv, a parte l'assistenza che magari è molto più ermetica e forse anche meno dolce di quella che c'è nei nostri ospedali, ma mi ha detto la tecnologia. Una velocità di intervento, attrezzature modernissime, risonanza magnetica, non se ne parla, non è del tipo nostro, cose veramente eccezionali. Questa sarà la selezione, sono convinto di questo. Il costruire l'ospedale a Mezzo Lombardo, il discutere se aprire l'ospedale a Trento o piuttosto cosa, se la maternità declessa, non reggerà. Anche perché ci sarà una cosa importante, che certi settori della medicina non sono più affrontati come prima. si stenta a trovare anestesisti, ci sono alcuni settori della medicina che non hanno sufficienti medici da mettere negli ospedali. Vedremo. Attualmente gli ospedali rimarranno come sono perché c'è una visione politica, cioè un campanilismo e di fronte a questo campanilismo non c'è ragione che tenga. Però se voi domandate a tante persone, ma dov'è chi sta operando? A Verona, a te, a San Carlo, a te, a portare il bambino perché proviamo l'orecchio e sono a Dancona. Ragazzi, molta gente va via. Negrar è un ospedale che ricopre moltissime esigenze del Trentino, Ora, le specializzazioni oggi con la tecnologia hanno bisogno di personale altamente specializzato, ma soprattutto che adoperi queste attrezzature in maniera frequente e non in maniera troppo rallentata. A fare una risonanza magnetica, un tecnico che faccia una risonanza magnetica una volta là, è meglio che la risonanza magnetica. Io oggi avrei terminato su questo argomento. Il prossimo vedremo che cosa decide il nostro regista Galas.